A Napoli ti dicono che sembri milanese, ma se tu dovessi fare il milanese come lo faresti? Il milanese di per sé abbassa un po' la voce, la fa uè, così è più alta però, tu devi pensare che la voce è qui però, e allora senti che sale, è difficile parlare così tutto il tempo, e dillo ai milanese, tu ti svegli la mattina, buongiorno, buongiorno, se sei milanese, se sei cinese ti alzi la mattina e dici, sono già all'otto.